Ciao amici, noi siamo in partenza, direzione Milano, andiamo a un concerto con gli mesi indovinati dove. Allora papà, com'è? Sei gasato? Sei caldo? Gasatissima, prove! Per questa cosa che stiamo per andare a fare, che ne sono sacco. Allora raga, parliamo di come serie. Siamo al grill e abbiamo preso da mangiare. Avevamo in omaggio due brioche, come le han prese? Vuota e fusti di bosco. Facciamo il pistacchio? Ora è da dilettanti. A dire stai posti. Fatti vedere. Dove? 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 Ero lontana dall'aria condizionata per la mia salute mentale. Eh no, vediamo un'altra, tu solo. Anche mia mamma ha qualcosa da dire. Allora, in un autogrill com'è possibile che non ci sia una brioche all'albicocca? Brioche! Tutti! Tutti i gusti tra me l'albicocca! Come dovete sapere che la mamma... Perugnoso! Mangia solo brioche con la marmellata. Di albicocca. E basta. Non va bene. Allora, siamo appena arrivati. Siamo soltanto partiti. Noi abbiamo scoperto che... Tutto... Dobbiamo portare via tutto. No, e che la cosa che dobbiamo fare inizia alle 9 e mezza. Noi pensavamo alle 5. E ora è... Sono le 2 e 20. E probabilmente le bottiglie da litro e mezzo non si possono portare. Noi le abbiamo portate tutte da litro e mezzo. Grandi noi! Pat pat! Se non torniamo a Varaggi sapete perché. Siamo sciolti. Saluteci, pensateci. È stato un piacere, vi vogliamo vedere. Addio. Raga, avete capito dove siamo? Piccolo aggiornamento, sono le 3 e mezza. Non sopravviveremo fino alle 9 e mezza. Guardate! Questo tipo non lo conosciamo! 1, 2, 3, 4! Il nostro corso gratuito finito loro hanno fatto il concerto senza di noi sono bello c'è Mario